buongiorno buongiorno a tutti buongiorno a tutte bentornate oggi 25 novembre è una data particolare una data particolare dedicata a una di quelle giornate che ormai si rincorrono veramente quotidianamente e che sinceramente mi fanno rabbia mi fanno rabbia perché considerare che in questo periodo in questo periodo della vita dell'umanità si debba ancora stimolare con una giornata il pensiero e la solidarietà nei confronti delle donne violate delle donne abusate delle donne violentate delle donne uccise che questo debba avvenire ancora tramite una giornata dedicata e che non sia nel dna di tutti di tutti noi sinceramente mi fa una rabbia incredibile alle mie spalle vedete un numero che il numero da fare per entrare in contatto con un personale specializzato nella nell'aiuto e nella repressione anche di situazioni di disagio e violenza femminile e niente ripeto io sono veramente mortificato arrabbiato schifato del fatto che sia necessaria ancora una giornata del genere perché il numero delle donne uccise quest'anno sia a tre cifre e sia di incremento quotidiano non ci sono non ci sono parole se mancano a me le parole figuratevi a che punto siamo 15 22 io ci sto che è invece hanno il suo dna e non solo per essere all 80 per cento costituita da donne non solo perché da sempre il presidente è una donna non solo perché le persone che animano lo staff sono al 99 per cento donne dico continuo a dire non solo perché e soprattutto non solo per queste ragioni non solo per la composizione al di là delle quote della di questa del motore vitale di questa libreria ma proprio perché è nello spirito fondativo di io ci sto e questo sì nel dna di tutti quelli che che hanno contribuito a formare questa libreria portata avanti da sette anni e per i prossimi anni chiunque aderirà io ci sto aderisce anche a concetti precisi di e ideali importanti sui quali non ci si dovrebbe neanche soffermare appunto e da io ci sto quindi nasce e parte comunque l'adesione a questo tipo di campagne nella fattisprecie parte dell'incasso di oggi lo diciamo a chi entra in libreria lo diciamo adesso immagino che sarà detto anche dalla nostra comunicazione che è sempre puntuale su questi avvenimenti parte dell'incasso di oggi e servirà contribuirà a un crowdfunding di un'associazione attiva sull'argomento e l'associazione è l'associazione Cassandre di Ponticelli Cassandre con K cercatela questa associazione però non adesso state qua con me un po' morite però subito dopo ve lo ricordo anche alla fine della diretta cercate anche su facebook questa associazione ci sono tutti i dati per contribuire a questo crowdfunding che è importante serve a sostenere l'attività di un'associazione che aiuta le donne che aiuta le donne che hanno già subito violenza che aiuta donne ad evitare di subirne ancora e a evitare di trovarsi in un'atmosfera in un ambiente che portino al femminicidio è importante ricordate questo numero diffondetelo io mi auguro che se non arrivano chiamate a questo numero sia perché non ce ne sia bisogno ma se ce n'è bisogno fatelo voi stessi avvisate di situazioni di cui siete a conoscenza non abbiate paura perché a volte una telefonata in meno può significare un morto in più e continuiamo con l'argomento con la mia prima proposta in effetti è arrivata ieri in libreria sono non sono coincidenze chiaramente ma è la volontà di marcare certe giornate certe e certe situazioni dagli amici di edizioni san gennaio edgar colonnese padre l'offredo chiara nocchetti ci arriva questo volume amore senza libidi storie di guerriere senza paura e e penso che le storie e gli argomenti trattati con fare giornalistico ma con capacità narrativa da chiara nocchetti e benedetta de nicola siano diciamo il filo rosso così come in copertina che ci può aiutare anche a capire alcune situazioni ea a riconoscerle poi in altre in altre vicende perché a volte la violenza si nasconde anche la violenza il disagio la paura si nascondono vengono nascoste dalle stesse vittime e quindi riconoscerle e poter agire poter dare un consiglio poter capire cosa sta succedendo può aiutarci anche se nel caso intervenire amore senza arrivi di storie di guerriere senza paura con la prefazione di sabrina ferrilli che è attivissima su questo in questo campo e a cura di manuela paolondi edizioni san gennaio non è un consiglio è un ordine di acquisto questo qui acquistate ordinate se possibile scusatemi e quindi acquistate o è un ordine perché serve è un strumento non è un libro oggi è una giornata particolare che sera la giornata contro la violenza sulle donne è una giornata nazionale per napoli è una giornata ancora più particolare e abisit i nuova verdi e fatte le debiti e proporzioni è una giornata che pure resterà nella storia di questa città o di parte di questa città perché è un anno che diego maradona ci ha lasciato è un anno che ogni giorno diego maradona è con noi sarà sempre così come sarà per tanti dei nostri dei nostri idoli e delle persone che hanno cambiato la nostra la nostra vita almeno in questo in questo lasso di tempo come è che fare a fare tanti noi ma comunque come massimo come come pino e come tanti altri che ci hanno che ci hanno lasciato il quale modo migliore per ricordare per ricordare diego di questo libro che anche in questo caso è da pochissimo liberi è uscito da pochissimo ed è questo di marino bartoletti il ritorno degli dei l'anno scorso marino ha vinto diversi premi ha avuto una delle vendite eccezionali col suo la cena degli dei ambientata in un empirio in cui grandi personaggi si ritrovavano a cena grandi diciamo senza limiti di tempo senza limiti di spazio o di nazionalità e davano vita a situazioni diciamo di conversazione di ragionamento di approfondimento di grande interesse divertimento marino ci ritrova questa volta è sicuramente accolpito nel segno perché immagina che in questo paradiso degli dei si incontrino due delle figure che è vero che nel campo del calcio che non è che sia amato da tutti ma che comunque hanno trasceso sicuramente il fenomeno calcistico sono entrati nella nella storia nella storia di questa nazione sono pablito paolo rossi e diego si incontrano e come è possibile come è possibile hanno l'opportunità di tornare sulla terra di tornare a napoli e quando quando si arriva a napoli scese dall'auto mani in tasca babbero rialzato cerco di evitare la luce dei campioni si diresse con un po' di incoscienza verso la tribuna sperando di trovare un varco per avvicinarsi al campo di gioco il suo nome e il suo viso erano dappertutto persino su un muro di cinta tinto d'azzurro con la sua immagine poi viva scritta stadio diego armando maradona immaginate cosa possa essere questo libro come possa essere coinvolgente e come possa essere anche divertente per le situazioni che 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 prospetta e per l'analisi che marino bartoletti che comunque oltre che ormai un grande narratore anche un grande giornalista e con una capacità fabburatoria che gli viene da anni e anni anche di frequentazioni televisive immaginate come possa essere interessante rileggere del ritorno degli dèi per Gallucci e di Torner e passiamo dal paradiso dove si aggirano questi questi personaggi all'inferno in terra e l'inferno in Italia rappresentato dal nostro parlamento dove si aggirano probabilmente anche anime elette nel senso non di essere state elette tutti sono stati eletti o nomi lo sappiamo lo sappiamo in questo parlamento ma nel senso di anime che credono in quello che fanno e lavorano e cercano di lavorare per il bene comune ma diciamo navigano a vista in porti abbastanza perigliosi e in baria delle correnti che sono anche appunto le correnti dei vari partiti le correnti dei vari movimenti delle varie articolazioni del parlamento e queste correnti diventano turbinose diventano assolutamente ingovernabili quando i due rami del parlamento si riuniscono per eleggere il presidente Marco Damirano è uno dei giornalisti per i quali io continuo a seguire ancora alcune trasmissioni mi piace ascoltare le sue analisi le trovo puntuali le trovo non faziose le trovo anche capaci di passi indietro rispetto a dichiarazioni precedenti trovo Marco Damirano un giornalista onesto e devo dire che purtroppo questa è una caratteristica che fatti salvo i giornalisti che conosco io e con i quali ho l'onore di discutere e di confrontarmi non riconosco a moltissimi a moltissimi frequentatori soprattutto dei talk show televisivi Marco Damirano fa, utilizza le elezioni, le 13 elezioni dei presidenti della Repubblica Italiana come torniamo alla parola di prima, della storia di questo paese, della storia politica, sociale, industriale di questo paese e quindi anche di tutti i movimenti e di tutte le sotterranei e nascosti e mai confessati che sono dietro le 13 elezioni dei 13 presidenti che abbiamo finora avuto e del futuro presidente che tra pochi mesi sarà, si immagina, eletto alla suprema carica dello Stato e lo fa con dovizia di particolari, con documentazioni anche inedite, con testimonianze dirette dei protagonisti insomma è un libro che aiuta anche a conoscere di più, a sapere di più della storia di questo paese che aiuta anche a capire come si siano poi modificate dei doti, chiamiamole così, dei vari personaggi politici che sono stati eletti che sono stati eletti alla carica di presidente della Repubblica come negli anni nel settennato e qualcuno forse anche qualche cosa in più come ricorderete abbia bene umano sublimato la sua personalità nella ricerca del bene dello Stato, della nazione e dell'unità del paese alcuni lo hanno fatto meglio, alcuni lo hanno fatto peggio, alcuni hanno seguito soltanto gli interessi della loro fazione però fatto sta che è vero che anche la carica fa il personaggio e lo scopriamo in maniera eccezionale con questo Il Presidente di Marco Damirano edito da Ranare di Teseo Oggi vi sto presentando tutti i libri che io leggerò sicuramente perché la scelta è stata fatta proprio in base anche a quelli che sono i miei gusti personali, ci mancherebbe altro perché se faccio una pubblica e voi la seguite mi prendo anche la libertà di consigliare le cose che mi piacciono o che so che mi piaceranno o che immagino mi piaceranno, poi c'è sempre la delusione dietro l'angolo credo che non sarò deluso da questo Jonathan Strange e il signor Novel che è l'esordio incredibilmente fortunato di Susanna Clark che immagina nell'Inghilterra del periodo napoleonico già votata alle scienze, alla tecnica e a quant'altro la comparsa di un personaggio che ottiene un grandissimo successo inaspettato per le sue doti di mago ma non prestigiatore mago per cui mago come Merlino diciamo e dal comparire al suo fianco di un altro personaggio Jonathan Strange che influenza le situazioni e le sfrutta e le piega al suo volere le situazioni economiche, industriali, politiche del periodo è una rivisitazione del periodo storico attraverso una letteratura che viene definita fantasy normalmente ma che vi assicuro io ho cominciato dalla Sinossi come faccio sempre quando preparo questa rubrica e già mi sono appassionato all'intreccio narrativo nel quale c'è tutto è uno di quei libri destinati a diventare sicuramente ad avere anche una riduzione cinematografica ma ecco seguite la parola riduzione cinematografica perché diciamo il libro ha una sua valenza assoluta e quindi questa non può essere che ridotta nell'ambito del tempo di un film dei 120, 120, 90, 120 minuti di un film per quanto possa essere amplificata poi dagli effetti speciali e da tutto quello che sappiamo oramai fanno la padrona della qualità delle produzioni cinematografiche attuali il libro è altra cosa, in questo caso sarà altra cosa, vi assicuro ed è una bella cosa Jonathan Stridge e il signor novel per l'esordio diciamo con milioni di copie già vendute in tutto il mondo di Susanna Clarke le edizioni di Fazzi anche questo il fatto che sia un libro di Fazzi dovrebbe comunque darci l'indicazione di quanto una certa indicazione di qualità rispetto alla validità del volume e della storia raccontata manteniamoci più o meno sullo stesso livello sullo stesso tipo di argomenti ma qui sono supportati da una grafica incredibile è uno dei libri dal punto di vista grafico più belli che abbiamo visto ultimamente ed è questo di Sebastian Perez e Benjamin Lacombe l'incredibile famiglia Appenzell per Fizzoli Editore i disegni di Lacombe sono di una bellezza sconvolgente e anche la storia, una storia da assaporare parola per parola la storia di questa di questa famiglia particolare nel quale la parola mostro è bandita e invece viene utilizzata la parola prodigio che poi più o meno sapete hanno lo stesso la stessa radice e le figure, le illustrazioni che fanno da supporto e a volte da da commento al testo piuttosto che viceversa sono di un impatto incredibile e la storia di questa famiglia fin dall'origine ricostruita dall'ultima esponente della famiglia e capirete vedendo le illustrazioni di che tipo di famiglia si tratta è una famiglia particolare, ecco la rivedete qui in copertina c'è poco da raccontarvi se non l'estrema delicatezza e l'estrema dolcezza del testo che ho potuto notare sfogliando queste pagine è una famiglia in cui la tristezza naturale si trasforma in dolcezza e l'amore tra i membri della famiglia è una specie di baluardo contro l'esterno vi assicuro un'esperienza particolare come al solito anche questo per esempio può essere un bellissimo e mi aspetto che lo sia un bellissimo regalo di natale l'incredibile famiglia Penzel di Sebastian Perez e Benjamin Lacombe per l'edizione di Rizzoli e poi di questi tempi è naturale che sia uscito la strena di Serrerio che anche da questo punto di vista marca il periodo natalizio sia per le rendite sia per gli autori impegnati e quindi sarà sicuramente uno dei best seller del prossimo periodo una settimana in giallo edito da Serrerio ci sono poche altre cose da dire se non che gli autori che partecipano a questa corposa, corposissima antologia quindi forse ci riuscite a farlo durare più di mezza giornata ma so che molti di voi sono dei direttori compulsivi e velocissimi e parlando di voi immediatamente mi viene da salutare come sempre le mie carissime e dolcissime Rita e Tina oltre che tutte le signore che sono qui all'ascolto e alla visione e abbiamo Patricia Gimenez Bartlett, Andre Longo, Manvaldi, Manzini, Piazzese, Recani, Robecchi, tutta la scuderia Sabatteri, Sini, Stassi, Tanzini, insomma una bella scuderia al lavoro per creare questo splendido volume di racconti gialli che vi accompagneranno diciamo per qualche giorno nel periodo natalizio ma anche prima perché ci siamo il libro è già qui in libreria e a vostra disposizione a Cattadavillo una settimana in giallo e un altro degli argomenti ultimi di questa settimana è stato io quando parlo di argomenti parlo bene o male qui della piattaforma dove viene ospitata questa presentazione questa rubrica facebook e se ne parla su facebook se ne parla anche altrove chiaramente però diciamo li vedi continui post che ne parlano in maniera entusiastica sono diventati anche abbastanza stucchevoli però sicuramente hanno stimolato la curiosità di tanti e soprattutto di chi non conosceva Zero Calcare invece lo conoscevamo da un poco più di tempo ci piace lo proponiamo adesso Zero Calcare è in libreria con questo niente di nuovo sul fronte di Bibbia è una raccolta delle strisce uscite in questi in quest'anno in quest'anno sui vari magazine a cui collaborano Zero Calcare internazionale l'espresso è più un inedito che è il castello di cartone e che quindi chi non segue chi segue in maniera silua Zero Calcare avrà modo di ritrovare le sue meravigliose strisce e i suoi personaggi chi non lo segue avrà modo di scoprirlo e di rendersi conto di quanto Zero Calcare sia la rete dei più grandi vignettisti satirici italiani senza necessariamente fare nomi ma comunque siamo veramente ai grandi grandissimi inverni anche in questo caso l'uscita nel periodo è funzionale diciamo anche all'idea del regalo la forma è una forma regalo sicuramente interessante e quindi prendetene appunto e chiedetelo in libreria in libreria potete chiederlo soprattutto potete passare se passaste oggi come vi ho detto fin dall'inizio la nostra libreria come APS partecipa a questa iniziativa di crowdfunding delle Cassandre questa associazione che si occupa di disagio e riabilitazione femminile cercate adesso si subito la chiusura della mia rubrica cercatelo su facebook Cassandre Cassandre col K e partecipate al crowdfunding per aiutare questa associazione così come parteciperà io ci sto APS e così come vi invito a passare in libreria per gli acquisti che vi ho consigliato mai come questa volta sono sicuro che nessuno dei libri che acquisterete vi deluderà in più ricordate che volendo potete anche acquistare sia questi sia le decine e decine di libri che abbiamo preparato centinaia di volumi che abbiamo preparato per la manifestazione io leggo perché che ci vede protagonista mai da quattro anni e qui non posso non fare una menzione personale io parlo sempre dello staff in generale parlo della grandezza dello staff della famiglia che sono stati capaci di creare e comunque della libreria che è un loro esclusivo merito quello che si fa in questa libreria è merito esclusivo dello staff e di chi è alle spalle perché non solo in prima in prima fila ma ricordate che alle spalle c'è un lavoro incredibile di consiglieri di presidenti di presidenta uno è e ce la teniamo ce la teniamo cara ma un lavoro incredibile di redazione c'è tanto però io ho un nome in questo caso per questa settimana per ringraziarla pubblicamente lo devo fare ed è quello di Silvana Silvana de Rosa che ci ha trascinato ancora una volta col suo entusiasmo con la sua capacità organizzativa e col suo lavoro fisico incredibile coadiuvata da anche da altre socie ma faccio solo il suo nome e comunque no faccio anche il nome di altri che l'hanno aiutato e che continuano ad aiutarlo Valentina Maria Grazia Anna Maria insomma ce ne sono tante che collaborano con Silvana ma ci ritengo a ripetere il suo nome Silvana de Rosa che da anni da quattro anni diciamo porta io ci sto ai vertici dell'attenzione proprio nazionale per la capacità di gemellarsi con le scuole del territorio e non solo perché abbiamo scuole di pianure abbiamo scuole di soccavo abbiamo scuole di scampia che sono gemellate con io ci sto in questa manifestazione e quindi voi avete la possibilità fino a domenica di venire in libreria a scegliere un libro e donarlo a una di queste scuole alla fine della manifestazione gli editori una volta tanto fanno una cosa buona e raddoppieranno la dotazione delle librerie scolastiche che hanno che partecipano a io leggo perché quindi è una cosa bella come come lo slogan che ho utilizzato che ho coniato perché non doni che ho fatto ma comunque che mi piace ripetere rispetto a io leggo perché che di slogan ne ha tanti ma io uso il mio donare a una scuola è donare al futuro e abbiamo bisogno tutti di un futuro più importante migliore avrei finito velocemente torniamo indietro con le proposte così le appuntate telefonate se non potete venire visto che la giornata è uggiosa piovosa e da rirta meteo ma anche nei prossimi giorni vi aspetto in libreria sia per per questi sia per i libri da donare alle scuole per gli orecoperti il telefono è 081 578 04 21 potete acquistare potete pagare online potete pagare poi dopo con calma vi mandiamo gli esattori a casa non c'è problema l'importante è che ci sentiate sempre vicini ci siate vicini e sappiate che ogni acquisto che fate in questo giorno in particolare ma sempre serve a sostenere un progetto che non è soltanto un progetto commerciale ma è soprattutto un progetto sociale allora zero calcare niente di nuovo niente di nuovo sul fronte di lei bibbia dao publishing edizioni sarà anche tradizionale sarà anche ripetitiva continuativa ma viene attesa sempre con grande passione dai lettori ed eccola qui l'antologia annuale di serrepio per una settimana in giallo con tanti tanti autori della scuderia serrepio che è la più ricca dal punto di vista delle scuderie per il giallo italiane italiane questo splendido l'incredibile famiglia Appenzell dove la parola mostro non esiste mentre esiste la parola prodigio e capirete perché e vi piacerà vi piacerà capire perché anche perché le illustrazioni sono belle bellissime nel testo di una poesia sconvolgente i prodigi continuano con Jonathan Strange e il signor Norvell anche questo è un libro che potrà tenervi occupati per un po' di tempo in modo piacevole e avvincente avvincente ve lo assicuro sceglietelo edito da Fazzi è un esordio di Susanna Clerc ma è un esordio di quelli strepitosamente accolti dal pubblico e dalla critica e vi dico la verità anche dal libro anche Marco Damilano è uno dei preferiti del vostro libro e il presidente è una lettura piacevolissima diciamo è anche fonte di di riflessione a volte anche di rabbia vi assicuro vi arrabbirete molto leggendo questo libro e capirete se ce ne fosse bisogno tante cose Marco Damilano il presidente la storia dei presidenti della repubblica italiana e delle elezioni dei presidenti della repubblica italiana tutto il mercato delle vacche che c'è durante quelle elezioni e dei vaccari che ci sono e che a volte le pilotano e a volte le vincono a parte poi diciamo poi il valore dei nostri presidenti che è indiscusso anche quelli più chiacchierati hanno avuto poi una rivalutazione estrema come il nostro Giovanni Leone quindi è vero che la come ripeto spesso chi la carica fa l'uomo molto spesso a parte che la carica di direttore di Ocistolo non ho fatto non ha creato un libraio ma comunque marino Bartoletti il ritorno degli dei bello bellissimo capacità natativa fabbulatoria due personaggi che sono nel cuore di tutti quanti noi anche di quelli che non che non che non amano il calcio e che non muoiono dietro le squadre di calcio ma la capacità di Bartoletti è unica è assoluta è grande uno dei miei sogni è quello di avere Marino qui in libreria a parlarci semplicemente del mondo perché dategli un argomento e lui lo sviluppa è è bravissimo da questo punto di vista Marino Bartoletti il ritorno degli dei gallucce editore e infine così come abbiamo cominciato vi ho detto che ve lo avrei ricordato Amore senza lividi storie di guerriere senza paure raccolte da Chiara Nocchetti e Benedetta De Nicola la tua prefazione di Sabrina Ferilli in una giornata come questa sarebbe facile poetico e stucchevole dire il cielo piange così come deve piangere questo il paese in cui il numero dei femminicidi è a tre cifre ed è superiore a quello di uno al giorno e quindi pensiamoci c'è un numero alle mie spalle 15-22 che può servire ad aiutare chi è in difficoltà e vi ricordo anche che io ci sto c'è anche in questa in questa occasione e c'è sempre non servono giornate ma io ci sto per sapere qual è la parte giusta e per cercare di aiutare la parte la parte debole vi ricordo il nome dell'associazione così andate subito adesso appena io chiudo la trasmissione andate a vedere di che si tratta l'associazione Cassandre la trovate qui su facebook e noi invece ci ritroviamo la settimana prossima con con altre proposte e speriamo che non sia una giornata particolare anche quella perché sinceramente le giornate particolari al vostro libraio lo fanno solo incazzare ciao ciao a tutti